Ciao a tutti, benvenuti a una nuova recensione per TecnoNews.it Oggi parliamo del drone della Sima X21V Piccolo drone, vediamolo nella descrizione Ed ecco qui il nostro drone Notiamo la camera Anteriore, HD E nella parte inferiore, devo dire che è molto solido Qui troviamo, nella parte superiore troviamo il pulsante di accensione e spegnimento Camera, telecamera frontale, HD E nella parte inferiore il vano per la batteria Batteria che è già inserita E bisogna solamente collegarla Spero sia carica Così facciamo una prova di volta Ok Ovviamente all'interno della scatola troviamo il manuale di istruzioni Manuali in lingua inglesa, credo Per andare dal telecomando nella parte posteriore troviamo l'alloggio per le batterie Batterie 4 stilo Ok E accendiamo il drone Ecco che il drone si accende Iniziamo con la prova di volo Oh, oh, oh Oh, 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 oh Come avete visto la qualità registrata da questo drone non è elevata, anzi è piuttosto scarsa, il drone soffre parecchio il vento perché è molto leggero, tutto va giustificato dal prezzo a cui questo drone è venduto, infatti potrete acquistarlo su Amazon per una cifra che si aggira intorno ai 40-45€, vi lascio il link sotto in descrizione. Direi proprio un buon acquisto per cominciare ad avvicinarsi al mondo dei droni. Io mi sono divertito per un po' di giorni a giocare, a utilizzare questo drone, però come detto prima e come vedete al video soffre parecchio il vento, quindi potete cominciare a usarlo in ambienti chiusi o comunque nelle giornate non ventose perché altrimenti rischiate di perderlo o comunque che vada a sbattere contro oggetti, alberi, insomma, è di difficile gestione. Come potete vedere il drone viene fornito dal controller, come abbiamo visto prima, controller abbastanza completo che ci permette di guidarlo nel migliore dei modi. Io tengo che questo sia un buon acquisto, soprattutto per chi si avvicina al mondo dei droni, è un buon investimento per imparare a capire come funzionano, come si guidano, per poi passare allo step successivo e acquistare qualcosa di fascia un po' più alta. Per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e commentate qui sotto. Appuntamento alla prossima recensione, ciao!